Lo spaccio ai tempi della crisi, ovvero come fare soldi con la droga, facendola pagare a rate per andare incontro ai clienti in difficoltà economiche. E' questa l'idea venuta a tre spacciatori di Grumo Apola, arrestati dai carabinieri della compagnia di Modugno, al termine di un'indagine durata diversi mesi. Si tratta di Donato Terrone, di 31 anni, di un incensurato di 25 e del 26enne Giuseppe Lacasella, vittima nel dicembre del 2013 di un tentato omicidio risolto dai militari nel giugno di quest'anno, con l'arresto dei due presunti sicari e del mandante, già in carcere per altri reati. E proprio da quell'agguato è partita l'attività dei carabinieri, che ha permesso di accertare l'esistenza nel comune alle porte di Bari, di una fiorente attività di spaccio, gestita dal 25enne e dal 26enne, per conto di Terrone. La droga veniva ceduta al prezzo di 80 euro al grammo, prima della vendita vera e propria. Pusher e i clienti si mettevano d'accordo telefonicamente sul luogo dello scambio. Conversazioni criptate, nel corso delle quali le dosi diventavano focacce, e se i clienti non gradivano la qualità dell'ultima fornitura, si lamentavano parlando di focacce troppo dure o bruciate. Per pagare c'era tempo, potendo contare su una clientela affidabile e fidelizzata, i pusher agevolavano gli acquirenti con pagamenti dilazionati, recuperando successivamente i crediti divantati con le numerose richieste avanzate per telefono. Un giro d'affari molto redditizio, venuto a galla grazie all'intenso lavoro dei militari, che hanno tratto in arresto gli spacciatori, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari. I tre dovranno rispondere di detenzione spaccio, continuato e in concorso, di sostanze stupefacenti. I tre dovranno rispondere di detenzione spaccio, continuato e in concorso, di sostanze stupefacenti. Grazie. 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 Grazie.